Sgominata dai carabinieri la banda specializzata in furti e rapine in ville ed appartamenti tra la provincia di Pesaro e Rimini. L'operazione denominata Fake Lupin, portata a termine dai carabinieri della compagnia di Fano assieme ai colleghi di Riccione, ha portato a cinque ordini di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine e da due denunce per favoreggiamento. L'indagine Fake Lupin, così denominata per il vero nome di uno dei componenti della banda che si era lui stesso attribuito dopo un viaggio in Albania, suo paese d'origine, nel tentativo di ripulirsi avendo già un nutrito numero di reati a suo carico. Le misure cautelari che esse dal PM di Pesaro Silvia Cecchi e firmate dal GIP Francesco Messina sono state notificate a persone già in carcere e che sarebbero usciti a breve per scadenza dei termini ma ora grazie alle misure richieste dai giudici rimarranno in cella. I denunciati sono un cinquantenne albanese residente da vent'anni a Fano con precedenti per spaccio, il risultato essere il basista della banda, ben inserito nella comunità e di diversi contesti sociali senza una fissa di occupazione però e che aveva accompagnato i membri della banda ad acquistare gli arnesi da scasso in ferramenta pagandoli di persona ed un cinquantasettenne italiano che aveva affittato alla gang un appartamento a Fano dove erano stati fermati nel blizzo notturno dei carabinieri di Riccione nel quartiere di Gimarra di Fano l'inverno scorso. I quattro albanesi e i destinatari delle misure cautelari tra i 25 e i 34 anni erano stati arrestati nel gennaio scorso dai carabinieri di Riccione dopo una rapina a Saludecio. Il quinto un 41enne anch'esso albanese che in patria si era cambiato il nome appunto con Lupin in omaggio al celebre personaggio letterario il ladro Arsenio Lupin era invece detenuto per altra causa. Secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Fano guidati dal tenente Luigi Grella sarebbe stato proprio lui il capo dell'organizzazione. Anche in questo caso la collaborazione del cittadino è stata premiante e noi ringraziamo tutti coloro i quali ogni volta notano qualcosa di sospetto chiamano il 112, vengono in caserma o fermano una nostra pattuglia. Effettivamente ha fatto la differenza perché se non fosse stato per questo bravo cittadino che oltre ad aver visto e osservato per lungo tempo quello che di strano effettivamente stava avvenendo sotto casa sua sicuramente non potevamo mai raggiungere questi risultati lusinghieri. Possiamo dire che grazie alla perfetta sinergia con i colleghi pariderici del nucleo operativo della compagnia di Riccione il fenomeno dei furti in abitazione è stato infrenato in modo significativo, questo ce lo dicono i dati, il trend dei furti in abitazione in Fano ma più in generale nella provincia di Pesero Urbino è in netto calo. La vera svolta delle indagini quindi l'hanno data con le loro segnalazioni alcuni cittadini, vittime loro stessi di furti che hanno fornito ai carabinieri date e circostanze che hanno consentito di intercettare la brutta coppia di Lupin alla guida di una vecchia Fiat Stilo Blu intestata ad un romano prestanome con precedenti penali con altre 200 auto intestate e utilizzata dalla banda per compiere gli spostamenti ed i sopralluoghi prima dei colpi come le tante segnalazioni dei cittadini avevano denunciato.